L'assegno unico ha portato via le detrazioni, quindi le detrazioni non esistono più in bussa paga per i figli fino al ventunesimo anno di età. Quindi sostanzialmente per poter continuare a percepire quelle che sono le detrazioni, ovvero la compensazione della detrazione, bisogna appunto richiedere l'assegno unico e universale. La cliente, la signora, mi scrive al CAF e mi hanno detto che mio figlio che è 22enne percepisce le detrazioni, come me lo spiega, perché appunto le detrazioni da 22 anni in poi si possono continuare a percepire, sia per i figli, sia per gli altri familiari. Gli altri familiari possono essere papà, mamma, eccetera. Quindi sostanzialmente le detrazioni dai 21 anni in su esistono ancora, le possiamo percepire durante l'anno, le possiamo percepire in bussa paga. Le possiamo percepire direttamente nel modello 730. Io per esempio personalmente sconsiglio sempre di prendere le detrazioni per la moglie o per il marito a carico, poiché se durante l'anno mi trovo lavoro, rischiamo di, boom, andare a restituire tutto quanto indietro. Quindi, se abbiamo il coniuge che sta cercando lavoro, non chiedete le detrazioni in bussa paga. Quando poi faremo un modello 730 le prenderete tutte insieme, se vi spettano. Quindi, quelle non si perdono mai, ricordatevi, non entrate in panico per le detrazioni, se le vedete che non le percepite in bussa paga, quando poi faremo un modello 730 riceverete tutto. Per le domande scrivetemi qua, vi ricordo, quando vedete i miei video mettetelo sempre tra i preferiti, sarà più facile che TikTok ti proponga i miei contenuti e io vi mando un abbraccio. Per le domande scrivetemi qua, vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo.